Grazie 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 I przecież chciałbym przesunowić Kolejna 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 E... E... la... 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 Il primo grande, il primo grande, perché iniziate a dire che fate fare le scicli, il primo grande. Il primo grande, esatto. Vecchio! Grazie a tutti. Grazie. 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 Sì 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 No, 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 no. grazie Sì, 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 sì. Ok! 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 Grazie a tutti. 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 Bene. Ok. Allora... ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Lungo laggiù, sull'angolo, non vieni più e prendere il grosso del ritmo. Alto, forte. Vai. Lungo laggiù, sull'angolo, non vieni più. Lungo laggiù, sull'angolo. Lungo laggiù, sull'angolo, non vieni più. 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 Lungo laggiù, sull'angolo. Lungo laggiù, sull'angolo, non vieni più. Lungo laggiù, sull'angolo, non vieni più. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. a tutti. no 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 Grazie! Adesso! Grazie! aspetta, aspetta, aspetta e skype ok neanche te dite lo dite i miei aspetta, aspetta, aspetta e skype bene, forte sta palla no bravo ok, buon, avvento Vediamo qui dentro del gioco a 2. Grazie. Vai. Vai. Pesso lavoro, divertito. Vai. Andiamo. Compi. Vieni, primo. Guarda. 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 Bacchino! 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 Se passo, basta che sia un po' tolto. Non andare a passare e giocare l'esercizio su una notte. Se era più difficile la pista. Ok? E poi andiamo in forza dritta. È più facile. Ok? Vai! L'ultima! Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. oh ok sono faccio W B I C I G I C G B B B B B A B B B B B B B A B B No, no, no! No, 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 no! 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 No, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! 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 No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Giorno! Ehi! 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 Palla! Ehi! Ehi! Palla! Palla! Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.